La visione è una condanna a 5 anni di giorno. Siamo al 1983, a 32 anni fa, il mondo si impegna con il terrore. Con un comunicato ufficiale dell'agenzia Zapatan, a quei giorni dall'incidenza della centrale di Cernobil, l'Unione Sudetica ammette l'attività senza fornire ulteriori dettagli, quelli che poi verranno scoperti nei giorni, nei mesi, negli anni successivi, si impegna però all'epoca a eliminare le conseguenze dell'incidente. E ancora oggi, siamo nel 2013, a Roma, grazie a tutti, ci c'è grazie. Grazie.